C'è un filo conduttore in questo libro che è dato dal fatto che i direttori che vengono da esperienze di carta stampata hanno fatto cilecca nella conduzione del Tg1 dell'evento. Diciamo che questo è uno degli aspetti, non è l'unico aspetto del libro e in alcune pagine io comunque osservo che l'arrivo di bravissimi colleghi esterni, ex vice direttori di grandi testate o settimanali nazionali che sono venuti a dirigere il Tg1 invece di correggere e migliorare i vecchi difetti, le pecche, le lacune della lottizzazione partiti Carai hanno accentuato alcuni difetti sia per la dipendenza sempre maggiore dal sistema politico sia per aver scardinato alcune regole pur parziali e insufficienti ma che tuttavia regolavano in qualche modo il funzionamento delle redazioni, delle carriere. Io cito sempre per tutti un caso, prima esisteva un solo caporedattore centrale, come dice la funzione essendo centrale 1, oggi ce ne sono ben 7. Tutto questo ha portato a corrompere un po' il funzionamento, il meccanismo interno e questo non ha portato e non ha favorito una maggiore autonomia, una maggiore professionalità dei giornalisti del servizio pubblico. Lei è un giornalista di successo, perché ha avvertito l'esigenza di fissare su carta quello che succede all'interno del Tg1? Io intanto ho avvertito l'esigenza di raccontare la mia storia, la mia piccola storia professionale, ho offerto una testimonianza e offrendo questa testimonianza ho svolto alcune riflessioni. Questo libro va dai miei sordi in carta stampata fino alla mia esperienza americana, attraversa le vicende RAI, attraversa quelle del Tg1, della direzione del Tg1, essendo stato anche io direttore del Tg1. Ma ho sentito questa esigenza perché mi pare che rispetto anche ai difetti che c'erano nel passato, si è andato stabilendo un meccanismo perverso che ci ha portato verso una deriva che è evidenziata anche dal fatto che molta gente non guarda più il Tg1, non guarda per la verità manco più il Tg5, va da altre parti e tutto questo sta arrecando un notevole danno alla RAI e al servizio pubblico in Italia. L'Abruzzo la accomuna a Bruno Vespa, però lei lo bacchetta un po' all'interno del libro? Diciamo che siamo due molto tenanci, molto di testa dura che nel corso degli anni si sono confrontati, solo a base anche penso di una stima professionale reciproca, ma avendo non sempre la stessa visione di come fare il giornalista del servizio pubblico. Consiglierebbe a giovani di intraprendere questo mestiere o professione? Sì, a patto che abbiano due caratteristiche, studiare, 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 tenere dritta la schiena, tenere dritta la schiena. Se non si è disposto a fare questo è meglio fare altre cose in questo momento soprattutto. Oggi ci sono altri strumenti per fare informazione e comunicazione, ad esempio internet, cosa ne pensa? Internet è uno strumento nuovo, uno strumento fondamentale, non solo per noi, l'abbiamo visto anche in queste situazioni rivolte nel Maghreb, nei paesi arabi e può essere già da noi, è utile, può essere molto utile, un arricchimento e anche un controllo dell'informazione televisiva. Però stiamo attenti, la televisione rimane il principale strumento di informazione nel nostro paese. L'80% del popolo televisivo si fa, si forma la sua opinione guardando esattamente questi mezzi, questi strumenti, che poi sono elettorato, che poi fanno opinione. Quindi gli altri sono importanti anche per condizionare, sorvegliare, anche in qualche modo hanno ridimensionato l'importanza dominante e prevaricante della televisione, ma la televisione rimane, e io penso rimarrà ancora per parecchio tempo il principale e più importante strumento di informazione e di formazione dell'opinione pubblica, non solo nel nostro paese. Se le offrissero di nuovo l'occasione di dirigere il Tg1, che cosa immediatamente modificherebbe? Adesso non voglio entrare in questa definizione, diceva un mio vecchio direttore, non si torna due volte sul luogo del delitto. Quindi non voglio dare particolari consigli, ma sicuramente la prima cosa è quella di rivitalizzare e ristabilire delle regole di comportamento all'interno della redazione, perché solo con una redazione motivata, che abbia coscienza anche delle proprie capacità, della propria autonomia e della propria dignità professionale, si può tornare a fare un prodotto che, senza ripetere niente, anche dei limiti del passato, permetta tuttavia di avere un prodotto all'altezza delle sfide dei nostri giorni. E veniamo di nuovo al mestiere. Il conduttore di prima serata, che cosa deve sempre e comunque avere? Ma il conduttore da noi è un mestiere molto enfatizzato, poi in effetti è anche meno importante di quello che sembra, perché appunto spesso introduce e presenta servizi fatti da altre notizie, anche curate da altre. Quello che deve avere è una tranquillità d'animo, una capacità di raccontare, di presentare in modo semplice e comprensivo a un pubblico di non addette al lavoro, o magari anche di un pubblico che può essere in quel momento distratto, perché magari sta cenando, sta pensando o sta facendo altre attività, di interessarlo e di richiamare la sua attenzione, perché con anche una gestualità molto, diciamo, sobria, ma soprattutto con la capacità di porre una notizia, un'informazione, un concetto in modo semplice e accattivante, attirarlo, interessarlo e farlo partecipe di quell'evento. Le Mani sul Tg1 è un libro scomodo, è stato editato nel 2010 da un piccolo editore, ma c'è comunque un suo compagno? È un libro scomodo perché non si limita a esporre teorie astratte, questo non è un trattato sulla RAI o una storia, è una testimonianza, ma attraverso questa testimonianza io faccio una serie anche di nomi e cognomi di quelle lobby che hanno condizionato e inquinato ulteriormente l'informazione nel nostro paese, ci sono oltre 200 nomi e questo naturalmente non provoca comprensibilmente simpatie. Nomi taciuti e soprattutto vicende taciute da altri invece hanno scritto libri di storia o che avevano pretese di storici e oggi per sapere qualcosa di come effettivamente vanno le cose, soprattutto nell'ammiraglia, nella maggiore testata del servizio pubblico, ci sono due libri, questo qua, Le Mani sul Tg1 e il libro di Maria Luisa Busi, Brutte Notizie, che dall'interno e dall'interno della RAI e dall'interno del Tg1 raccontano storie e vicende che altri giornalisti che pur hanno scritto libri sull'informazione, sulla RAI e sull'informazione televisiva non hanno raccontato, non raccontano, non sentono l'esigenza di raccontare. Questo indica anche, diciamo, la deriva, lo scadimento che ha subito l'informazione nel nostro paese che devono essere due giornalisti dall'interno, offrire due testimonianze per dire guardate, stanno succedendo le cose importanti ed ecco perché stanno succedendo. Mancano alcuni contenuti, mancano alcuni fatti e questo sta diventando un giornalismo sempre più collaterale al potere di turno e non autonomo e al servizio del cittadino.